Ciao ragazzi! Ci possiamo incontrare domenica 24 novembre dalle 11 alle 12 alla fiera G come giocare a Milano allo stand Sbabam! Vi aspetto! Ciao ragazzi! Oggi stiamo andando al Children's Museum di Verona e il nostro motto, il loro motto è vietato a non toccare quindi bisogna praticamente toccare tutto Ciao ragazzi! Ci vediamo appena arrivati! 3, 2, 1! Ragazzi! Eccoci qui al Museo della Scienza a Verona Saliamo! Qui ci sono varie cose Comunicità? Guarda lei ha una scala! Sembra un pianoforte! È vero! E' un po' che volare qua! Che bello! E' un po' che volare qua! Che bello! Eccole lì! Queste sono tutte le bambine che sta mettendo Leo! Eccole! 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 Mi arriva l'altra? Sì! 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 Musica 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 Qui potete creare un'armonica a bocca, ci sono tutte le istruzioni, vi mettono a disposizione tutti gli accessori e così potete creare l'armonica. Grazie a tutti! Oh mio Dio, cosa c'è lì, no vabbè l'hai visto seriamente, no cosa c'è lì, piano piano Oh mio Dio, cosa c'è lì Guarda, c'è del colore sotto, c'è dell'acqua colorata Oh mamma, ciao Leo Fammi vedere tu, fammi vedere tu Beh, parti dai colori che ci sono sui E qui invece è colori pezzi Però non ci sono le mani da fare, non è possibile E qui mi ha detto, è esatto No, 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 no No, 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 no Questi Leo, guarda, cambiano colore in base alla luce che cambia colore sotto, vedi? E' un po' di più. Allora questo è Leonardo, adesso Leonardo deve accendere la luce, poi deve chiudere gli occhi, adesso gli spegniamo la luce, eccola qua, girati, e quella è la tua ombra, wow, non è che se faccio così si forma la mano, no, si spegne la scuola, wow! Wow! No, 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 no! No, 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 no! Ragazzi se premete questo pulsante, guardate cosa succede, fai il pulsante, fai il pulsante! Io premo quest'altro, ok vieni! Allora questa è veramente l'ascendente, non c'era la cosa, non mi piace, aspetta! No! provato? No! Vibra qui! 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 Grazie a tutti.